Dove andava il giudice Scopelliti, Rina da parte sua, di solito lo guace nell'aula calabria, presidente del consiglio, davanti ai capi... Grazie a tutti, grazie a tutti. Ci sono i fotografi, io, ragazzi. Lo chiamiamo, perché io chiamo vendita, lei mi scusa e mi perdona. ...del consiglio, davanti ai capi storici delle massime organizzazioni...